Oggi 10 di agosto San Lorenzo Ma soprattutto il compleanno di Giulio Sarpin Tanti auguri da schiaccia Misto 5 Vi ringrazio per gli auguri, per questa mini torta Che è l'unica del giorno Perché essendo qui non c'è possibilità di andarla a prendere È un muffin speciale perché è al cioccolato e al vino rosso Quindi mangiala di nascosto Mangiala di nascosto perché se no qui se ne accorgono subito Grazie Misto 5 Grazie, ciao Com'è bello far l'amore da Trieste Grazie a tutti Grazie a tutti